Più di 900 metri quadri dedicati alle attività culturali dei giovani, con aule studio, uno sportello in forma giovani, una sala prove musicale, un archivio rock e una piccola officina di fabbricazione digitale, un fab lab. È la casa della cultura e dei giovani inaugurata questa mattina a Pianura. Una struttura pubblica interamente gestita dal comune che sarà aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per dare spazio ad iniziative culturali, attività di studio e di ricerca e momenti di aggregazione. Uno spazio dedicato completamente ai ragazzi, non soltanto perché le attività sono pensate da loro ma soprattutto perché si rivolge a quella forza di creatività e di innovazione giovanile che è nella città di Napoli. Un quartiere dove il disagio sociale è molto forte, dove i dati di abbandono e dispersione scolastica sono davvero gravi. Con fierezza abbiamo il primo fab lab comunale della città di Napoli, una sala prove musicale, l'informa giovane, aule studio che saranno aperte H24, quindi anche la notte e poi un pilastro importante, democrazia partecipata. Già dalla settimana prossima saranno attivati i gruppi di lavoro con i cittadini per costruire il programma 2015 in maniera partecipata. Oggi finalmente vediamo questa struttura realizzata che non solo per il significato quindi casa della cultura dedicata ai giovani ma è proprio per dare un grosso input ai giovani che debbono crederci in questa struttura per creare grandi laboratori e quindi avvicinarsi e chiudersi all'interno delle quattro mura del territorio perché è dai giovani che bisogna partire. Quindi noi come Municipalità siamo soddisfatti di aver seguito quest'opera e insieme a questa amministrazione finalmente realizziamo un qualche cosa che vedrà l'impegno di tantissimi giovani non solo del nostro territorio ma anche giovani che verranno dall'esterno. Gli spazi della Casa della Cultura saranno intitolati alle giovani vittime innocenti della città di Napoli. Il giardino rivestito con le maioliche prodotte nel laboratorio di ceramica del carcere minorile di Nisida porterà il nome di Giuseppina di Fraia uccisa a pianura nel febbraio 2013. Più di 15 nomi che sono i nomi dei giovanissimi vittimi della criminalità e della camorra da Annalisa Duranta, Lino Romano, Maurizio Estate ecco nomi che devono parlare al cuore dei cittadini napoletani al cuore di noi ragazzi e che sono un motivo di impegno e di riscatto. E' veramente una giornata importantissima per Napoli perché ancora una volta puntiamo sulla cultura. Qui abbiamo anche oggi pubblicamente annunciato la nascita della prima scuola di musica pubblica napoletana come l'altro giorno la prima scuola di teatro pubblico napoletano con l'arte drammatica con Luca De Filippo quindi insomma in un momento di crisi economica questa amministrazione va controcorrente, investe sulla cultura. Altri tagliano e noi investiamo quelle poche risorse che abbiamo sulla cultura. Grazie. 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 Grazie.